E' stato sorpreso con le mani nel sacco mentre tentava di rubare da un'auto in sossa circa 20.000 euro. Per lui così sono scattate le manette. E' successo ad Arezzo, a pochi metri di distanza dall'Arezzo Fiere e Congressi, che proprio in questi giorni sta ospitando l'edizione 2019 di Gold Italy. A sventare il colpo sono stati gli agenti della sezione volanti della Polizia di Stato, che hanno arrestato un trentenne cittadino tunisino irregolare sul territorio e con una lunga scia di precedenti alle spalle. L'uomo infatti era un vero e proprio specialista di furti in auto, in grado di aprire le portiere senza lasciare segni di scasso. Ma ieri mattina gli agenti lo hanno notato nel parcheggio di Arezzo Fiere mentre saliva su un'auto in sosta, ma dal lato del passeggero e trafugando tra i beni lasciati incustoditi. Alla vista dei poliziotti, il giovane si è dato alla fuga lasciando nella vettura la refurtiva, 20.000 euro in contanti, un iPad, un computer ed altri beni di lusso. Gli agenti così, con una manovra di accerchiamento, sono riusciti a fermarlo e arrestarlo. In seguito ad una prima perquisizione, le forze dell'ordine hanno scoperto che il trentenne aveva con sé anche alcuni oggetti ritenuti provento di un altro furto sempre in auto, messo a segno due ore prima nella zona universitaria, portato in questura, l'uomo ha fornito false generalità, ma è bastato un controllo per scoprire il suo nome e soprattutto i suoi numerosi precedenti. Il malvivente era stato già arrestato lo scorso 17 ottobre sempre dalla polizia. Era infatti noto per aver messo a segno numerosi furti, in particolare su auto in sosta, tutti senza lasciare segni evidenti di forzatura sulle portiere. Il PM Laura Taddei, valutandone la pericolosità, ne ha disposto adesso la custodia cautelare in carcere in attesa dell'udienza di convalida.